Sono passati la bellezza di 20 anni dalla nascita di PES e come ogni anno torno al gioco calcistico targato Konami in uscita il 17 settembre 2015 per tutte le console. Dopo il dominio iniziale all'interno del panorama delle simulazioni calcistiche con l'avvento delle console PS3 e Xbox 360, PES ha imboccato un periodo di crisi mentre la concorrenza raccoglieva sempre più consensi scavalcando la simulazione di Konami in termini di critiche di vendite. Lo scorso anno gli sviluppatori hanno deciso di posticipare l'uscita del gioco di qualche settimana allo scopo di rinnovarne le fondamenta e sfruttare al meglio il Fox Engine, che è il motore grafico, in grado di restituire un comparto grafico importante. Nonostante i problemi legati alle licenze al gioco online, Pro Evolution Soccer 2015 ha segnato finalmente quell'inversione di tendenza tanto amata dai fan storici e dagli appassionati del genere. Un ritorno alle basi ben riuscito e appassionante, che se vogliamo ha solo scalfito la superficie di un gameplay in grado di lasciare un ottimo retrobusto e far presagire grandi cose per i capitoli successivi. Per il secondo anno consecutivo, così come per la versione 2015, PES 2016 è stato premiato al Gamescom come miglior gioco sportivo dell'evento. Sicuramente il miglior aspetto di questo gioco è il reparto grafico che grazie al Fox Engine assume livelli incredibili e lo si nota dal viso di alcuni giocatori, ma non solo. Infatti la fisicità dei giocatori risulta pressoché identica a quella dei calciatori reali. I loro movimenti molto fluidi e le loro caratteristiche tecniche e tattiche sono le stesse di quelli mostrato su un vero campo da calcio. Inoltre è stata rivista la fisica della palla in modo da offrire un comportamento più simile a quello dei palloni reali e sono state migliorate anche le azioni di gioco grazie a un migliore controllo palla centrocampo e a una migliore gestione dei contrasti aerei e dei tackle. Konami ha poi fatto sì che ci fosse un coinvolgimento corale nelle azioni sia offensive sia difensive, evitando di avere giocatori che si muovono per il campo come se fossero estrani al gioco e ha migliorato l'intelligenza artificiale e soprattutto quella dei portieri che sono stati modificati e dotati di un sistema che darà una certa personalità a ciascun portiere, aggiungendo parametri quali prese, rilanci, tuffi e dediazioni. Parliamo ora delle news presenti nel gioco. Partiamo dalla nuova funzione di metodo dinamico che consisterà di avere condizioni meteorologiche variabili durante la partita. Vi è una nuova telecamera dinamica in grado di regolarsi e inclinarsi automaticamente, avvicinandosi o allontanandosi in base alla posizione della palla. Dopo ogni gol potrete festeggiare come volete, infatti ora i giocatori hanno controllo dei festeggiamenti dopo aver segnato un gol. Basta premere un tasto, ad esempio Totti può fare il selfie con i tifosi. Poi nella versione PlayStation 3 e PlayStation 4 vi è la possibilità di importare un Imaginen. Un'altra novità riguarda la modalità preferita dei fan della serie, ovvero il campionato master, che è stato completamente rinnovato e offre anche un nuovo sistema di trasferimento giocatori. Ma abbiamo parlato di modalità e quindi come non nominare la modalità MyClub, dove si selezionerà il manager, si valuteranno gli allenatori, creando una strategia in base a quali sono gli obiettivi della squadra, si costruirà il proprio team creando una leggenda. Le licenze non sono mai state il massimo per questo videogame, ma quest'anno si difende molto bene con la possibilità di giocare la maggior parte dei campionati mondiali. In Italia il gioco uscirà con in copertina il testimonio numero uno del gioco, ovvero Neymar, mentre per quanto riguarda il commento troviamo Fabio Caressa affiancato da Luca Marchegiani. In conclusione Konami si è data da fare per far uscire questo gioco con tutte queste nuove caratteristiche, secondo noi migliorerà sicuramente il risultato del suo predecessore e attualmente risulta il miglior gioco sul mercato per quanto riguarda la simulazione calcistica, aspettando ovviamente la risposta di FIFA 16. Grazie a tutti!